E mentre sfuma Cindy Loper con Girls Just Wanna Have Two Fun, ritorniamo qui in diretta sui 96.2 FM Crystal Radio, Dub Plus in tutta Lombardia, questa è Good Morning Milano. Buongiorno ancora a tutti e a tutti, siamo qui ancora un po' così per raccontarvi tutto quello che succede in questa città, l'abbiamo letto dai giornali, vi abbiamo dato un po' di notizie lette qua e là, sia quelle buone che quelle un po' meno buone. Sapete che io cerco di edulcorarvi un po' la giornata togliendo quelle peggiori notizie che cerchiamo di evitare, però insomma ogni tanto devo leggervi anche quelle, ma invece adesso è una bellissima iniziativa che vogliamo portare alla vostra attenzione e raccontarvi. Ci spostiamo così nella zona est, più o meno, centro-est di Milano, adesso poi chiediamo se è giusto perché noi dell'Ovest la vediamo così, però bisogna capire infatti come funziona. La risata che sentite è quella di Alexa Vitabile-Leva, buongiorno Alexa. Buongiorno a voi. Responsabile progetti, ambiente e sostenibilità di Cascina Cuccagna e project manager del progetto Radici di Comunità, che ci viene a parlare di un vicolo, Vicolo Cuccagna. Sì, sì, sono molto felice oggi di avere l'opportunità di raccontarvi questa nuova esperienza che vede protagonista Cascina Cuccagna. Allora, mi permetto di correggerti, noi in realtà siamo in zona sud, siamo a pochi passi da Porta Romana e ci affacciamo, diciamo così, verso il parco agricolo sud. Cascina Cuccagna possiamo dire che è un primo esempio di rigenerazione urbana per la città di Milano, è una vecchia cascina che è stata riaperta al pubblico nel 2012 e che sta portando avanti questo processo di rigenerazione grazie anche alla riqualificazione del vicolo di via privata Cuccagna. Beh, Cascina Cuccagna, possiamo dirlo, è stato anche forse uno dei primi esperimenti ben riusciti, oltretutto, che ha fatto anche un po' scuola su altri progetti di rigenerazione di altre cascine. Se c'è stata, diciamo, una positiva ondata di rigenerazione di cascine è anche grazie al progetto Cuccagna, che appunto nasce nel lontano 2012, oramai? Sì, sì, nasce addirittura più di, diciamo così, più di vent'anni fa con appunto l'assegnazione della cascina all'associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, che è proprio nata per dare, diciamo così, possibilità e vita a questo progetto che è proprio un progetto di intervento classico dal basso. Quindi l'attivazione di cittadini che si sono uniti per dare vita, ridare vita a questo luogo, che è diventato poi un centro soprattutto di aggregazione culturale e di partecipazione. E ora diciamo che la conquista del quartiere continua, no? Continua assolutamente. C'è anche un vicolo adesso, no? Cosa succede a questo vicolo? Adesso abbiamo questo vicolo che stiamo rigenerando e riqualificando grazie all'attivazione di diverse iniziative, non soltanto il progetto Radici Comunità che hai menzionato prima, ma grazie innanzitutto a un patto di collaborazione che l'associazione Consorzio Cantiere Cuccagna ha firmato con il Municipio 4, che ha affidato a noi e alla mescolanza impresa sociale la cura di questo nuovo spazio con il coinvolgimento della cittadinanza. Quindi diciamo l'aspetto assolutamente fondamentale e l'aspetto partecipativo della comunità, del territorio di prossimità di Cascina Cuccagna e non solo. E tutto questo vedrà questo domenica, giusto? Se non sbaglio, c'è un po' l'apice, il momento dello start, no? Giusto? Dimmi solo se io no, a me lo racconti dopo la canzone. Domenica si inizia? Domenica si prosegue. Oh, bello, mi piace, mi piace così. Allora andiamo con la musica intanto e poi sentiamo bene cos'è questo proseguimento, com'è, cosa succederà domenica. Io ho letto un po' la lista di quello che ci avete in mente di fare, è fantastico, cioè non si può mancare domenica questo appuntamento. Arita Franklin con Think, le 8 e 16 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano. Ancora parlando, stiamo parlando in questo momento con la nostra ospite Alexa Vitabileleva di Vicolo Cuccagna, appunto. Mi dicevi Alexa che questo è il secondo appuntamento di una serie di appuntamenti che farete appunto al Vicolo Cuccagna e che cosa ci dobbiamo aspettare appunto domenica? Allora, innanzitutto faccio un passo indietro e ti dico che il Vicolo l'abbiamo ufficialmente inaugurato alla presenza di varie figure istituzionali e non la domenica 26 maggio. Sì, sì, abbiamo avuto il presidente del municipio 4, abbiamo avuto l'assessore alla partecipazione Gaia Romani, ma soprattutto abbiamo avuto i referenti delle tre fondazioni che hanno creduto in questo progetto Radici di Comunità e hanno deciso di finanziarlo. La fondazione Alia Falk, la fondazione BPM e la fondazione AM. Ci tengo a precisare che il progetto Radici di Comunità è un progetto di rigenerazione urbana, ma è soprattutto un progetto di, possiamo dire, di rigenerazione anche a livello di persone, perché prevede il coinvolgimento in questo processo di riqualificazione delle aree verdi del Vicolo e delle aree dismesse di tre giovani tirocinanti che sono, diciamo così, in una fase di reinserimento professionale e soprattutto anche sociale. Insomma, Alexa, della rigenerazione urbana alla rigenerazione umana, bellissima questa cosa. Assolutamente, sì. Complimenti, complimenti. Noi, appunto, possiamo dire che è il progetto Radici di Comunità che è il cuore pulsante di questo processo di rigenerazione del Vicolo e l'inaugurazione è stato proprio un momento di condivisione di questi valori di sostenibilità non solo ambientale ma soprattutto sociale e valori di inclusione. Sono i valori che, diciamo così, in cui hanno creduto soprattutto anche le fondazioni che hanno scelto di finanziare questo progetto. Mi piace molto che questo inserimento del municipio, cioè il fatto che comunque il municipio, che proprio è la prossimità, comunque segua bene questo vostro progetto, mi piace davvero tanto. Assolutamente. Troppo spesso ci dimentichiamo dell'importanza appunto dei municipi. No, infatti ricordiamoci che Cascina Cuccagna è un bene del Comune di Milano, quindi in qualche modo comunque rappresenta anche la città di Milano e per noi che ce ne prendiamo cura è molto importante anche appunto la relazione e la sinergia con il municipio di appartenenza. Cosa succede domenica? Cosa succede? Esatto, cosa succede? Che comunque questo patto di collaborazione comporta anche l'animazione di questa zona che noi, a cui insomma, che ci è stata affidata, la cui cura ci è stata affidata. E quindi con domenica prossima, che è appunto la domenica 9 giugno, abbiamo la domenica bestiale di Cascina Cuccagna, che è questo evento culturale che ormai da più di un anno offriamo alla cittadinanza con un ricco palinzesto culturale per grandi e piccini, noi amiamo dire da 0 a 99, dove offriamo per la maggior parte eventi a titolo gratuito e tantissime delle iniziative di domenica 9 giugno prenderanno parte anche nel nuovo vicolo rigenerato. Sicuramente quella più interessante, più divertente, che vede anche i protagonisti, proprio i ragazzi che sono coinvolti nello sviluppo del progetto di Radici di Comunità, è questo swap plant party, questo scambio di piante. Lo scambio delle piante, che cos'è? Lo scambio delle piante. È interessantissimo, che non sono gli alberi di Natale che non lo usate più. No, assolutamente, sono piante vere nel vasetto, nella terra, di varie dimensioni e possiamo decidere di scambiare delle piante e scambiare quindi anche delle storie e delle esperienze, se vogliamo, e se abbiamo voglia di cambiare possiamo appunto portare una pianta che magari ne abbiamo più di una in casa, lasciarla, lì qualcun altro se ne prenderà cura e noi ne prendiamo una che magari… Guarda, secondo me ti arriverà una certa Elisa Galmarini, che è la nostra producer, perché so che ha delle piante di pomodoro in casa che non sa più dove metterle e quindi si possono portare anche quelle. Molto volentieri perché noi in Cascina Cuccagna tra l'altro abbiamo anche l'orto. Appunto, allora, Elisa parlo con la mia producer, due piantine di pomodoro e tuoi ci portiamo a casa magari un po' di fiori di zucca, melanzane, qualcosa del genere, va bene, facciamo… Vediamo, vediamo. Va bene, dai, facciamo così. È molto interessante però, ma perché questa cosa appunto, mi dicevi, è aperta comunque a tutta la cittadinanza, quindi mi immagino che veramente c'è la gente che su magari sui suoi… adesso poi gli orti in casa vanno anche, no? Oppure ho 4-5 fiori, piantine più belle, o dei gerani, così io posso scambiarle con altre… È lo scambio, è proprio la cultura dello scambio, del confronto che comunque insomma sono sentimenti che comunque muovono tutto il, diciamo così, lo spirito di Cascina Cuccagna. Chiaro, chiaro, chiaro. Allora, prima di salutarti ci ascoltiamo ancora una canzone e poi mi racconti un po' invece quali saranno i next step, i prossimi passi appunto di Vicolo Cuccagna e manca a questo punto tutta la Cascina, che insomma sappiamo fare tantissime cose tutto l'anno, oltre la Domenica Bestiale, cioè veramente una Cascina Bestiale, quindi ne fate veramente veramente tante. Andiamo con un po' di musica e poi ancora qui a parlare di Vicolo Cuccagna. Nemo con The Code, direttamente all'Eurovision Song Contest 2024, vincitore per la Svizzera, lui broke the code, diceva, lui rompe il codice, rompe un po' gli schemi, beh sicuramente non so se ne avete rotte le regole, parlo con la mia ospite, ma sicuramente avete aiutato a riscriverle queste regole, un po' le regole della partecipazione della città, lo chiedo dall'ex evitabile leva, la responsabile appunto del progetto Ambiente e Sostenibilità di Cascina Cuccagna, insomma c'è poco a fare, l'avete un po' aiutato a riscrivere queste regole, no? Sì, indubbiamente ci siamo impegnati, ecco. Esatto, infatti non so se l'avete rotto, ma sicuramente avete aiutato a riscrivere, a pensare anche a quello che può essere una partecipazione un po' diversa da quella che magari si aveva un'idea vent'anni fa di partecipazione, cioè una partecipazione completamente nuova, che fa scuola appunto nella città e siamo ben contenti di avere tante iniziative in città, tra cui appunto quella che domenica vedrà il continuum di questa grande inaugurazione lunga diciamo che continuerà per, avete in vado, ho letto bene, 18 laboratori farete da qua fino a fine anno più o meno, giusto? Sì, 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 faremo tantissimi laboratori aperti a tutti, sia a bambini e ad adulti e la maggior parte saranno sicuramente ambientati e sviluppati nel nuovo veicolo rigenerato, sono tutti laboratori a tema verde e saranno aperti al pubblico, saranno aperti alla cittadinanza, molti di questi saranno dei laboratori partecipativi, avremo appunto anche la collaborazione di un gruppo di giovani artisti che si chiama Atelier delle Verdure che ci sta aiutando proprio anche ad arredare questo nuovo spazio con delle nuove attrezzature, dei nuovi servizi, dei tavoli, delle panche, dei tavoli per giocare a scacchi. Per voi è normale che qualcuno si chiami Atelier delle Verdure, giusto? Cioè per voi è una cosa ormai normale, giusto? No, ok, no, volevo dirvi che per noi no, però va bene, nel senso che sappiate, interessantissimo, è bellissimo, ma cos'è l'Atelier delle Verdure? Elisa, dobbiamo sentire quelli dell'Atelier delle Verdure, mi piace come nome. Bene, bene, mi fa piacere. Inoltre la rigenerazione proprio verde del veicolo dà la possibilità di scoprire nuove piante, perché comunque il veicolo è stato abbellito, continuerà ad essere abbellito, grazie anche proprio a una progettazione verde che permetterà proprio anche ai cittadini di scoprire nuove piante e imparare a conoscerle. I prossimi passi quindi quali saranno appunto? Da qui in avanti cosa si farà poi? Allora, abbiamo un progetto ambizioso per far vivere questo spazio. Perché finora invece erano umili, ma c'erano cose piccoline avete fatto finora. Allora, il progetto prosegue, probabilmente, se avremo anche tutte le, come dire, la partecipazione. Con tutta la scaramanzia del caso, diciamo, ecco in questo caso. E probabilmente riusciremo addirittura a realizzare in questo spazio una zona di proiezione di film all'aperto per la cittadinanza. È un progetto, diciamo così, che si sta sviluppando e al quale stiamo lavorando e al quale teniamo molto. Questo sarebbe proprio la restituzione più completa e più, diciamo così, coinvolgente proprio per la cittadinanza. Comunque, a parte questi eventi, diciamo così, sporadici e puntuali, poi il vicolo è vivibile, aperto tutti i giorni, è uno spazio comune, è uno spazio accessibile e è uno spazio di partecipazione e di condivisione. Sarà, anche nelle prossime edizioni delle Domeniche Bestiale, vi ricordo, il nostro palinsesto ogni seconda domenica del mese, tutti i mesi, a parte l'interruzione del mese di agosto, sarà appunto luogo di laboratori e occasioni di coinvolgimento per il pubblico. Vi ricordo, domenica prossima, non abbiamo solo lo scambio e il baratto delle piante, abbiamo tantissimi altri eventi, abbiamo lo spottacolo di burattini, abbiamo la musica per i bambini, abbiamo dei laboratori di falegnameria. C'è il laboratorio di creazione giocattoli in legno, ad esempio, ho letto, sì. Esatto, perché noi abbiamo la falegnameria Cuccagna. Poi c'è la stand-up comedy Lasciva, qui non voglio entrare, non voglio sapere. Nemmeno io, nemmeno io. Possiamo dire che... Ma c'è la tavolata bestiale poi finale, ho visto anche. Esatto, poi dopo la stand-up comedy c'è la tavolata bestiale presso un posto a Milano, il bar-ristorante ospitato all'interno di Cascina Cuccagna. Quindi c'è una varietà di proposte e di eventi che, diciamo, dovrebbero accontentare tutti. Ce n'è davvero, davvero per tutti. Grazie mille Alex, allora... Grazie, vi aspettiamo. Seguiteci sulle nostre pagine, rimanete informati, aggiornatevi. Siete ovunque, immagino, tutti social, cercate Cascina Cuccagna e trovate tutto quanto, va bene. Grazie mille Alex, buona giornata e porto i saluti a tutti quelli della Cascina e a tutti quelli del vicolo anche adesso. È del vicolo, sì. Infatti, infatti. Grazie mille ancora, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi.